salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video oggi vi farò vedere come si può modificare vedete adesso mi sono specchio la giusta per far vedere l'intensità di quel led nel momento in cui andiamo ad adizionare la freccia vedere che con la freccia attiva il led si abbassa di luminosità e dopodiché aumenta nuovamente l'intensità ogni qual volta andiamo a mettere la freccia facciamo sì che attiviamo la funzione che quella led diciamo quella striscia del led nel momento in cui andiamo a mettere la freccia rimane sempre attivo al 100% così da non abbassarsi può anche diciamo sembrare del brutto per fare questa codifica adesso vi farò vedere come si fa ok per fare questo come sempre c'è bisogno del nostro vcds con il cavo bag collegato alla macchina come sempre vi consiglio di fare una piccola scansione di tutte le centraline noi in questo caso parliamo di un audi a1 o una 8x andiamo qui facciamo la scansione di tutte le centraline una volta fatta la scansione nel momento in cui anche se non ci dà nessun errore nessun qualsiasi andiamo qua cancellare quasi confermiamo e usciamo dalla cinta questa centralina qua andiamo in selezionare perfetto dopo di che andiamo in centralina elettronica 09 e andiamo in codifica una volta andremo in codifica lunga perfetto e andiamo sul byte 15 allora batte 10 13 14 e 15 ecco qua byte 15 perfetto vedete poi una volta fatto ciò andiamo ad attivare anzi più che altro a deselezionare questa voce qua c'è il bit 3 deselezioniamo questa dicitura qua luce diurna disattivata contorno segnala attiva e dopo di che usciamo usciamo confermiamo la codifica appena effettuata codifica accettata perfetto ok e usciamo una volta usciti andiamo a controllare se la codifica che si è effettuata per controllare come per vedere l'effettivo realizzato la codifica è semplicissimo basta mettere la freccia e come sempre vediamo dentro lo specchio vedete che ricordate che prima il fascio del led si abbassava l'intensità nel momento in cui andiamo a mettere la freccia vediamo adesso ecco vedete l'intensità del faro rimane scusate non del faro del led del faro rimane sempre appena luminosità togliamo la freccia e non cambia l'intensità sempre alla massima intensità vedete perfetto sia così che di là mi faccio vedere questo così ho messo le quattro frecce vedete l'intensità del dei led dei fari rimane sempre la massima illuminosità perfetto spero che questo video come sempre vi sia stato utile vi sia piaciuto come sempre iscrivetevi al canale condividete il video attivate la campanella per essere sempre aggiornati sui miei video e commentate così da farmi sapere se il video vi è piaciuto o qualsiasi altra cosa utile vi possa servire ok ragazzi mi raccomando quando fate una codifica state molto attenti a cosa andate a selezionare semmai vi salvate in poco qualche dato qualche bit qualche byte da non sbagliare o comunque in ogni modo per tornare indietro ragazzi per questo per oggi va bene così ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi